Come si sente? Non possiamo fare molto. È un vero rincubo. Che è successo? Sono entrato dalla porta d'ingresso. L'ho iniziata a cercare. Ciao. Non rispondeva. E poi? Volete vedere una cosa? È un morso. Fu il calco dentale a condannare Ted Bundy. Le viene in mente qualcuno che può averlo fatto? Noti fa è successo che un tizio bussato da mia madre aveva un atteggiamento strano. Strano in che senso? Cosa dirà il DNA? Il fidanzato. Io punto sull'amica. No, punto ai lai. Il suo ex marito. Sono sospettato? Tutti sono sospettati. Che succede? Vuoi dirmelo, per favore? Abbi cura di te, capito? Non potrai fare il poliziotto per sempre. Sai tenere il segreto? Ve lo dico io il segreto. Ma prima vi chiedo di fare una cosa per me. Andrà sempre peggio. Tu non vuoi ascoltarmi? Andate! Davvero? Mi grazie! Cosa per fare di ransom? Dopi, che storta. Grazie a tutti.